Silvia Vogliotti, Istituto Promozione Lavoratori di Bolzano. L'Istituto Promozione Lavoratori nel 2018 sta organizzando una serie di interventi, una serie di convenni sul lavoro 4.0, perché il lavoro sta cambiando, sta diventando sempre più festibile e quindi è necessario anche per i sindacati dotarsi di strumenti informativi per affrontare le nuove sfide.